Al Consumer Electronics Show 2022, Cadillac ha presentato la nuova concept car elettrica e autonoma Inner Space che amplia il portfolio Cadillac Halo Concept. Il concetto di luso elettrico per due persone offre una visione della futura mobilità personale focalizzata sull'elevazione dell'esperienza del passeggero. Sfruttando tecnologie all'avanguardia progettate per migliorare l'esperienza dei passeggeri insieme al maggiore tempo personale consentito dalla mobilità completamente autonoma, Inner Space amplia il portfolio Cadillac Halo Concept di veicoli pensati non solo per spostare i passeggeri in un ambiente lusuoso ma anche per migliorare il loro benessere. La Cadillac Halo Concept portfolio rappresenta le possibilità future con una gamma di opzioni autonome personali e funzionalità avanzate per veicoli connessi. All'esterno la Inner Space dal design spettacolare presenta ampi vetri panoramici sul tetto e parte delle fiancate per una visuale quasi senza ostacoli. Il tetto si apre con le porte per un ingresso e un'uscita più comodi e anche i sedili ruotano verso l'esterno quando le porte vengono aperte. Anche gli pneumatici di Inner Space sono progettati per contribuire al suo comfort. Sviluppati da Goodyear per i veicoli elettrificati sono dotati della tecnologia Sound Comfort progettata per aiutare a mitigare la risonanza delle onde sonore all'interno dell'opneumatico per una guida silenziosa mentre l'olio di semi di soia e la silice a base di buccia di riso sostituisce l'olio a base di petrolio come ingrediente chiave nella loro costruzione. E poiché la guida autonoma toglie parte del collegamento del conducente con la strada, Goodyear Sightline, la tecnologia Goodyear per l'intelligenza degli pneumatici, trasmette importanti informazioni su pressione, temperatura, carico e altri fattori di prestazione. Grazie a tutti.